Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome! Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Antonio! 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 Antonio!